che non si può imputare queste anomalie del sistema sanitario inteso come personale medico in Italia, non si può imputare agli ultimi mesi seppur negli ultimi mesi sono state fatte delle scelte ecco, francamente, invece che investire in alcuni settori la cosa da fare era immediatamente investire in sanità e il MES, mi spiace per Librandi, che aveva fatto un discorso, devo dire, perfetto però purtroppo poi sul MES, sai che loro hanno una posizione che io non condivido perché secondo me non è il MES, la panacea di tutti i mesi insomma, quello che risolverà la situazione della sanità in Italia che appunto, come stiamo rilevando, è annosa con tutti i MES, tutti innamorati del MES io non so, forse ha le sembianze di una bella donna sto MES perché ne sono tutti innamorati, Andrea sono assolutamente ideologicamente innamorati del MES non si sa come mai, forse, non lo so comunque, tornando al discorso dei medici di base